Al comunale di Casalbordino va in scena l'ultimo atto stagionale dell'avventura giallorossa nel girone B di promozione. I ragazzi del patron Santoro, protagonisti di una stagione altamente positiva, non possono gioire ulteriormente a causa del cammino superlativo delle due squadre che hanno preceduto i casalesi in classifica, precludendo loro la disputa dei play-off. Con il Lanciano 1920 dominatore in contrastato della stagione e con la bacica Lupo Vasto Marina che vince per distacco il diritto a disputare gli spareggi in promozione con la vincente dei play-off nell'altro girone, ai casalesi non rimangono altre ambizioni se non quelle di provare il salto attraverso la domanda di ripescaggio. Così come per i casalesi anche la fate Rangelini Abruzzo, avversaria odierna, non ha più nulla da chiedere alla stagione ed è per questo motivo che entrambe le contendenti danno ampio spazio ai fuori quota che la fanno da padrona nei rispettivi organici. Il primo tentativo in avanti è della truppa di Mister Nepa, anche se il tentativo dal limite di Silvidi non è di quelli che rimarranno impressi nella memoria. I padroni di casa potrebbero rompere gli indugi con Bangura, che riesce ad anticipare l'estremo ospite in uscita e anche ad aggirarlo, ma si defile eccessivamente e consente a Gian Sante di tornare a presidiare la propria porta. Il numero uno pescarese è decisivo nel prosieguo quando si distende con tempismo e annulla lo stacco ravvicinato di Santini, che non riesce a far fruttare l'invitante pennellata da fermo di Piccolo. Opara non vuole essere da meno rispetto al suo omologo pescarese e azzera con un balzo felino il temibile piazzato ad effetto di Perilli, che aggira la barriera casalese e si dirige pericolosamente a ridosso del primo palo. Se Opara preserva l'inviolabilità della propria porta, Bangura rompe gli equilibri al minuto 25, quando ribadisce in rete da due passi favorito dalla corta respinta di Gian Sante, precedentemente impegnato dalla battuta a rete di Minichillo. La reazione della truppa ospite è affidata a Silvidi, che a ridosso della mezz'ora prova il pallonetto dalla distanza che va a sorvolare i legni della porta giallorossa. La truppa pescarese si conferma in zona d'attacco e dopo l'occasione sciupata da Tomaiuolo, che non riesce ad agganciare l'invitante suggerimento di De Simone, con la sfera che termina tra i guantoni di Opara, arriva il pareggio che si concretizza sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina di Perilli, intercettato da Tomaiuolo che fa impennare la sfera, con quest'ultima che arriva tra i piedi dell'appostato Speranza, il quale non sbaglia a ridosso della linea di porta. Vanno infrancati dal pareggio i ragazzi di Mister Nepa insistono in avanti e si rendono insidiosi con il destro dalla distanza di Perilli, di poco a fil di palo. Il casalbordino torna a dirigere le operazioni in chiusura di frazione e con Bangura torna a condurre al minuto 43. In questo caso il Colored casalese fulmina gianzante con un siluro dal limite d'area che va a gonfiare l'incrocio dei pali. La gara va definitivamente in archivio alla riapertura dei giochi, visto che i padroni di casa arrotondano il vantaggio con altre due segnature, la prima delle quali realizzata da Errag che resiste alla trattenuta prolungata di De Simone e al ridosso del limite d'area scaglia un gran fendente che si infila nell'angolo alla destra di Gian Sante. Il poker giallo-rosso arriva al 14esimo e permette a Bangura di firmare il suo primo trist stagionale con un tocco beffardo che scavalca l'estremo ospite. La Fater tira i remi in barca con Opara che non si lascia sorprendere dal piatto di prima intenzione di Perilli. Bangura in giornata di grazia vuole incrementare ulteriormente il suo bottino personale e a ripetizione va ad insidiare la porta di Gian Sante che al 24esimo disinnesca l'insidia al culmine di una persistente penetrazione in area del numero 10 di casa. I due tornano a fronteggiarsi al 34esimo e al 38esimo ma in entrambi i casi è l'estremo della Fater ad avere la meglio. Magra consolazione considerando il risultato nettamente favorevole ai padroni di casa che chiudono la gara in zona d'attacco anche se il risultato non subirà ulteriori scossoni nonostante i tentativi di Errag e del solito Bangura in pieno recupero. Padron Santoro oggi era l'ultima di campionato per il Casal Bordino che saluta questa stagione con un bilancio positivo ma che però lascia qualche pizzico di amaro in bocca perché nonostante si sia disputata un'annata straordinaria non è arrivato nessun risultato tangibile. Il risultato tangibile è arrivato, abbiamo fatto terzi, dovremmo aver chiuso secondi nella Coppa Disciplina di Girone e di tutto il campionato di promozione quindi Girone A e Girone B dovremmo a conti fatti essere i primi anche delle graduatori di ripescaggio quindi noi faremo la nostra domanda di ripescaggio e io sono contentissimo che oggi abbiamo vinto contro una gran bella squadra con cui all'andata avevamo perso schierando praticamente quasi tutti i nostri under e abbiamo un sacco di giocatori di Casal Bordino e del Casal Bordino che promettono un radioso futuro l'avrei potuto vedere pure tu. Non mi va di fare i nomi perché oggi sono stati bravi tutti, tutti, tutti. Ne abbiamo parlato anche nella nostra trasmissione l'altro ieri sul fatto che quest'anno c'è un premio pecuniario riservato alle società che schierano più giovani complessivamente qualche rammarico su una regola forse da rivedere. Sicuramente sì, innanzitutto non andrebbe premiata solo la prima ma andrebbe premiata prima, seconda e terza secondo me. E la seconda cosa la regola è stata messa in corso d'opera, se avessimo voluto attingere l'avremmo potuto fare tranquillamente perché quando è stata introdotta la regola avevamo praticamente 40 punti, eravamo gli unici che volutamente potevano andarsi a prendere quel premio. Ma a quel punto avremmo falsato il campionato e siccome non è nel nostro uso, nel nostro costume abbiamo preferito continuare a giocare con tutti, onorare i nostri impegni così come hanno fatto i nostri calciatori fino in fondo. Quindi sono orgoglioso di questo, sono orgoglioso dei nostri calciatori e ci rivedremo sicuramente alla prossima entusiasmante stagione. Cosa si preannuncia per il prossimo anno? Già qualche idea in ballo a parte questo ripescaggio però più realisticamente un nuovo campionato di promozione al vertice? Guarda io non so cosa augurarmi, sicuramente faremo la domanda di ripescaggio e a quel punto ci giocheremo le nostre scienze in eccellenza per salvarci. Laddove non dovesse arrivare saremo tra i protagonisti della promozione. Ho già dato mandato al mio direttore sportivo e a tutto il team di organizzare una squadra per vincere, quindi il Casalbordino starà ancora lassù l'anno prossimo. Qualche battuta sull'impianto che oggi lasciava un po' a desiderare per venire dalla tribuna agli spogliatoi, sembrava di attraversare una piccola giungla? Eh sì, il nostro impianto ormai è stato definito a livello nazionale il deserto del Sahara, ce lo deniamo così fin tanto che non arriverà un'amministrazione degna di questo nome. Giuseppe Vaccaro oggi oltre a far esordire tanti ragazzi c'è stata anche un'esperienza possiamo dire per Vaccaro da allenatore perché oggi oltre ad aver lasciato a casa per il meritato riposo tanti big ha riposato anche mister Vecchiotti. Sì sì, oggi per fortuna è stato esordio con Vittoria, quindi sono contento, ma la mia esordito oggi in promozione li ho allenati dagli esordienti, quindi io ho detto De Lì è in macchia dagli esordienti alla prima squadra. Per me è la più grande soddisfazione riuscire a portare due ragazzi a poter esprimere il loro calcio in prima squadra, sono contentissimo soprattutto per questo e anche per tutti i ragazzi che oggi hanno giocato perché comunque c'erano tutti i ragazzi di Casalbordino e diciamo che c'era in campo il nostro futuro, importante per noi. Cosa prevede per l'anno prossimo Vaccaro? Soprattutto a livello societario c'è qualcuno che si vuole avvicinare al vostro gruppo consolidato? Ma guarda, come ti ha già detto il padron Santoro, noi abbiamo delle aspettative di far bene e di riconfermare il Casalbordino negli alti vertici del campionato. A livello societario ci sono tante persone che si stanno avvicinando al calcio perché si fa aggregazione, tanti genitori che ci stanno dando una mano e vogliamo insieme a loro costruire il futuro dei nostri ragazzi. E per quanto riguarda l'impianto, abbiamo accennato poco fa con il padron, ci sono delle novità? Guarda, il campo purtroppo è lasciato un po' all'abbandono, ti voglio dare una news, insieme al padron ho un'idea personale di cui in un'altra sede te ne parlerò perché noi siamo letteralmente stufi. Tutta la promozione, tutti quanti le società che vengono qua, non dico che ci deridono però diciamo veramente l'amministrazione assente, oggi non voglio dire tanto ma l'erba così alta è stato un senso di degrado, ci sono due società, io parlo anche per la prima categoria che vengono qua, c'è tutto il chietino che viene qui per passare dai gradoni ci sta la giungla, purtroppo l'amministrazione assente è un peccato perché Casalbordino può meritare molto 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 di più. Dagli allievi alla prima squadra esordi oggi nel campionato di promozione per Antonio Macchia, una bella soddisfazione che è coincisa anche con una rotonda vittoria. Sì, ho esordito con la prima squadra oggi, mi è piaciuto molto come ho giocato, ho giocato abbastanza bene, spero. La squadra ha giocato molto bene e anche noi che abbiamo esordito abbiamo dato il massimo e con i sacrifici si arriva anche a giocare in prima squadra. Ci sono altri compagni pronti all'inizio magari del prossimo anno a fare come te? Sì, molti dei miei compagni sono molto pronti per giocare in prima squadra come Alessandro, De Lia che oggi ha giocato titolare, Igor Paglione, Iezzi, Cristian Galante che ha giocato parecchie volte e possiamo fare sempre meglio. Vincenzo Di Donato è uno dei due fratelli di Donato che militano nel Casalbordino, anche per te una prova positiva con la prima squadra, quest'anno si è stato forse bersagliato dalla sfortuna ma alla fine ti sei tolto anche tu una bella soddisfazione. Sì, è stato un bel anno, ho avuto questa prima esperienza nella promozione e sì, avevo iniziato giocando titolare quasi tutte le partite, poi ho avuto un infortunio, però va bene, sono contento della squadra e com'è andato. L'anno prossimo di nuovo qui su questo campo? Vedremo, vedremo com'è andrà. Altri nomi da pubblicizzare dei tuoi compagni più giovani per la prima squadra? No, posso parlare di tutti i ragazzi, sono tutti bravi e avranno un grande futuro. Tra gli indigeni della squadra Fabio Santini che oggi in mezzo a tanti giovani sembrava quasi un veterano. Sì, sembrare un veterano come dici appunto tu è sempre bello perché ti senti un'importante responsabilità un po' più grande quindi dai il massimo anche di più, se puoi dare di più del 100% lo dai e comunque è una bella emozione ed è bello. Una stagione positiva, forse anche più dell'anno scorso, però ahimè non sono arrivati i play-off per la nota regola dei dieci punti di distacco dalla seconda. Sì, purtroppo sì, perché c'erano il Lanciano e il Vasto Marina, erano quest'anno, forse alla fine si sono rivelate più forti di noi, noi abbiamo peccato in alcune partite abbastanza decisive, però vabbè ci si riprova, non si molla e speriamo di farcela, almeno anche l'anno prossimo, speriamo di riuscire in qualcosa di più. E siamo a Giacomo De Simone, centrocampista della Fatera, oggi ultima giornata di campionato, il mister e la società hanno voluto premiare i tanti giovani del settore giovanile, non dico che era una scampagnata, però non c'erano assili di classifica, quindi avete giocato con molta tranquillità. Sì, abbiamo raggiunto subito il nostro obiettivo, ci siamo divertiti, quindi abbiamo dato spazio anche ai ragazzi alle Uniones e va bene, il risultato di oggi non fa testo perché il nostro obiettivo è già stato raggiunto, quindi adesso vedremo queste settimane per l'anno prossimo e il da farsi gli obiettivi per l'anno prossimo. Una stagione positiva soprattutto per il settore giovanile, oltre che per la prima squadra è importante per avere un futuro e un ricambio negli anni a venire. Sì, anche questa giornata lo dimostra che noi abbiamo tanti ragazzi che possono giocare l'anno prossimo, quindi diciamo che stiamo coltivando i nostri ragazzi per il futuro, siamo contenti di questa cosa e anche la società è felice, quindi andremo avanti per il nostro cammino. Per chiudere un commento su questa stagione, la classifica rispecchia i valori delle partecipanti? Sì, diciamo che comunque quest'anno con Lanciano è stato un campionato difficile, chiuso quasi immediatamente, noi abbiamo fatto il nostro cammino con degli altri bassi, quindi abbiamo detto anche la nostra e abbiamo dimostrato che ce la potremmo giocare con tutti.